Adrano si prepara a vivere la Settimana Santa come ogni anno con una serie di eventi religiosi e tradizionali che coinvolgeranno tutta l'intera comunità adranita. Eventi che verranno presentati domani pomeriggio alle 16.30 nella Sala Emanuela Loi di Palazzo Bianchi ad Adrano con la tradizionale conferenza stampa. La Settimana Santa con le sue acre rappresentazioni e momenti di profonda spiritualità rappresenta uno dei momenti più suggestivi e significativi dell'anno per tutta la città. La Settimana Santa adranita si aprirà con la via Crucis Vivente della Domenica delle Palme che dai 50 anni, su iniziativa dell'Oratorio Maria Santissima del Rosario, si snoderà per i quartieri e le vie principali della città. E si conclude domenica sera, giorno di Pasqua, con la storica diavolata, rappresentazione sacra che risale al Settecento di Don Anselmo, l'Audine. La Settimana Santa rappresenta per Adrano, ricorda il Sindaco Fabio Mancuso, non solo un momento di profonda riflessione e devozione per tutti noi, ma anche un'occasione per riscoprire la ricchezza delle nostre tradizioni e della nostra cultura popolare, da condividere con i tanti visitatori che assisteranno agli eventi della Settimana Santa adranita. Quest'anno, inoltre, ai riti della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, i cittadini e visitatori avranno l'opportunità di immergersi nella tradizione locale come la Sagra del Ciciulio, che si svolgerà Domenica delle Palme e Domenica di Pasqua.